Grandi soddisfazioni a Parma per l'Atletica Scledense. Nella città emiliana lo scorso fine settimana si sono svolti i campionati italiani di atletica leggera. Cadetti Under 16 e la società sportiva Atletica Schio ha portato a casa in particolare un promettente secondo posto nel salto triplo con la quindicenne Chiara Dalmaso. Fisico slanciato, capelli biondi, studentessa Litis De Pretto di Schio, Chiara Dalmaso è andata nella città emiliana vantando il titolo regionale di specialità e ai campionati nazionali ha conquistato la medaglia d'argento superata solo dall'atleta laziale tredicenne Raffaella Ziniazzana. La promessa dell'Atletica Scledense ha tenuto una condotta di gara di alto livello con quasi tutti i salti sopra gli 11 metri fino a quello di 11.40 che ha consegnato l'argento tricolore. L'Atletica Scledense è stata eseguita attentamente dalla sua allenatrice Francesca Franzoni in veste dell'occasione di tecnico della rappresentativa veneta. Una soddisfazione per la compagine Scledense capitata dall'ex azzurro e tecnico federale di marcia Vittorio Visini che ogni anno sfornata lenti per l'Atletica tricolore. Insieme a Chiara Dalmaso ottimo risultato restando nelle giovani promesse vicentine per Matilde Morbin, Atletica Vicentina, chi ha chiuso seconda nel pentathlon con 3931 punti a ridosso proprio del primato. Il Veneto ha vinto anche la classifica femminile ed è terzo nella combinata.